Samuel Pengel di Atradius, vista la sua visione globale del settore dell'acciaio, quali sono secondo lei le prospettive del comparto per il 2010? Secondo me in 2010 ci sarà una stabilizzazione del mercato, non possiamo parlare di una ripresa ancora e non ci porterà neanche ai livelli di 2008, ma sicuramente ci sarà una stabilizzazione del fatturato con una leggera crescita, dipende da come i mercati internazionali per chi è rivolto all'esportazione si svilupperanno, per quanto riguarda l'Italia vedo che ci sarà veramente un momento di stabilizzazione in 2010. Grazie